Cari Gitarnauti, ciao e bentornati sul nostro canale di YouTube e su lezionechitarra.it Qui è Claudio che parla. Allora, oggi una lezione un po' particolare, perché non parleremo di teoria musicale, né di scale, né di canzoni, ma parleremo di suono. Nello specifico cercheremo di sfatare quel mito per cui, per avere dei suoni vari, quindi una buona varietà di suoni, sia necessario avere tanti effetti e tante chitarre. In realtà, molte delle sonorità di cui abbiamo bisogno sono già presenti nella nostra chitarra e basta saperle sviluppare e saperle valorizzare. Quindi vedremo come, utilizzando semplicemente le varie posizioni dei pick-up, il controllo del tono, il controllo del volume e anche un pochino degli accorgimenti di pronuncia, potremmo ottenere una grandissima gamma e varietà di suoni. Prima di cominciare, ti chiedo di prendere visione di tutti i collegamenti che ci sono qui sopra, quindi l'iscrizione al mio canale, i miei corsi completi, le risorse gratuite da scaricare, un sacco di cose. Quindi li trovi tutti i collegamenti qui sopra. Ma vediamo quindi come ottenere una grande gamma di suoni dalla nostra chitarra. Allora, partiamo con un suono clean, quindi sto suonando con la mia Gibson 335 all'interno del mio amplificatore Fender senza utilizzo di alcun tipo di effetto e sto utilizzando il pick-up al manico, al ponte, perdonami. Quindi ho predisposto una videocamera che inquadri il set qui dei controlli della chitarra, così capiamo bene insieme che cosa fare, ok? Questo è il suono. La prima cosa che ti voglio far notare è come, anche semplicemente cambiando la pronuncia, cioè per esempio il punto della cordiera in cui io tocco le corde, il suono cambi drasticamente, perché se io suono qui, quindi al manico, ottengo un suono piuttosto rotondo, se invece io suono qui al ponte, ottengo un suono molto più squillante, ok? Se anche poi io metto più pressione sulle corde, il suono sembra quasi addirittura saturare leggermente, nonostante io non abbia, non stia utilizzando nessun tipo di distorsione, ok? Questa cosa tornerà anche più avanti poi nel video perché è una cosa piuttosto importante. Adesso vado ad inserire un overdrive, quindi una leggera distorsione. Io utilizzerò il mio pedale della Dolphin Sound, quindi è un overdrive, un leggero distorsore, ma tu puoi ottenere la distorsione anche per esempio dall'amplificatore, ok? Direi che è un tipo di effetto ormai molto diffuso che possiamo trovare veramente ovunque. Quindi accendiamo la nostra distorsione ed ecco che otteniamo un suono piuttosto distorto, ok? Un piccolo trick che ti volevo far vedere, molto noto tra i chitarristi, è quello legato al controllo del volume. Nel senso che si pensa che questo potenziometro qui, ok? Che sulla 335 corrisponde al volume di questo pick-up, serve per abbassare il volume della chitarra. E la stessa cosa vale anche per la Stratocaster o per la Telecaster o per qualsiasi chitarra tu abbia, ok? In realtà l'effetto più importante che otteniamo abbassando questo volume è la riduzione della distorsione. Quindi senti che il suono più che abbassarsi di volume tende a ripulirsi. Quindi prima era questo Adesso abbiamo questo Tanto che ad esempio se io avessi una parte arpeggiata La posso gestire tranquillamente Se facessi la stessa parte con il volume al massimo Probabilmente sarebbe troppo distorto, ok? Quindi se io tengo il volume al massimo posso suonare dei bei riff rock Poi mi basta un piccolo giro di volume Ed ecco che sono pronto per arpeggiare Ok? Quindi molti pensano che per passare da una modalità all'altra di questo tipo Quindi suono distorto e suono quasi pulito Serve un pedale In realtà io non sto toccando niente nella pedaliera, ok? Il suono è assolutamente lo stesso E anche qui anche la pronuncia cambia molto Nel senso che, per esempio, se io anche con il volume un pochino abbassato Quindi con questa mezza distorsione, diciamo così Suono spingendo molto E anche qui verso il ponte Ecco che il suono si fa più cattivo e più grintoso Ma se io suono più morbido, suono più qui al manico Senti che il suono si fa più morbido, no? Quindi io con un mix di controllo del volume e tipo di pronuncia Ottengo anche suoni molto diversi Ok? E questo è molto molto interessante Va bene? Ecco Un'altra cosa che ti volevo far notare è come Sempre con il distorsore acceso Utilizzando il pick up centrale Io posso ottenere un effetto ancora più cristallino se vogliamo Un po' da chitarra acustica Ok? Abbasso ancora un pochino entrambi i volumi Quindi sia il volume del pick up al ponte Che il volume del pick up al manico Che è questo E posso quasi accompagnare Come se fosse una chitarra pulita, no? Tieni conto che insomma il pedale mi sta dando una buona quantità di distorsione Se io rimettessi il pick up al ponte E mettessi il gain al massimo Il suono di partenza è questo Un suono quasi rock Ma se io vado a mettere il pick up centrale E a ridurre il volume di entrambi i pick up Ecco che Abbiamo un suono Può essere interessante anche per accompagnare delle parti simile acustiche E questo è una problematica che capita spesso Perché quante volte noi abbiamo un brano che prevederebbe anche l'utilizzo della chitarra acustica Ma noi purtroppo non ce l'abbiamo a disposizione O non possiamo nel live o con la nostra band far intervenire la chitarra acustica in quel punto, no? È un problema veramente tipico tra i chitarristi E allora ecco che possiamo ovviare con questa cosa Quindi pick up centrale Che sia anche con la tua telecaster o con la tua stratocaster E abbassamento dei volumi Sempre pronti a tornare al massimo della potenza Quindi mettendo poi il pick up al ponte e alzando il volume E allora anche gli assoli Ok, posso anche suonare degli assoli E poi ritornare più morbido e acustico Ok, un'altra sonorità interessante che ti volevo far vedere è questa Quindi passando poi al pick up al manico Ok A parte che è già bello in sé, no? Basta semplicemente anche variare cambiando la posizione del pick up E ottengo un suono che è già bello in sé Se io lascio al massimo del volume Ecco che è un suono rock diverso Chiaramente è molto più scuro rispetto invece al pick up al ponte Ok, ma interessante comunque, no? Va bene anche per il blues, no? È un suono assolutamente interessante Ma cosa succede se io qui utilizzo una pronuncia molto al manico E abbassando anche un pochino il volume? Ecco che Il suono si fa jazzy Ok, abbasso ancora un pochino il volume Ok Il suono si fa jazzy, no? E poco fa invece il suono era rock Invece abbassando il volume E suonando molto qui al manico Ok Questo effetto può essere ancora di più enfatizzato Chiudendo anche il tono Non abbiamo ancora parlato dei toni Quindi del controllo di tono Che sono sulla 35 Sono questi due potenziamenti più lontani Ma se io vado anche a chiudere il tono Ecco che l'effetto jazzy È ancora più enfatizzato Senti che posso davvero suonare Delle parti jazzate E tieni conto che non ho ancora cambiato niente sulla pedaliera Sto sempre suonando con l'overdrive acceso Quindi Vedi che Il mito del Avere mille pedali Per fare sonorità diverse È assolutamente da sfatare Ok Quindi ricapitolando E ritornando a ritroso sui nostri passi Ho Utilizzato il pick up al manico Cioè questo Ho abbassato molto il volume della chitarra E ho anche scurito il tono Tornando indietro io posso riaprire il tono Il suono si fa più aperto Rialzare il volume Ed ecco che il suono Si rifà più Più distorto Più corposo Poi Ritornando dal pick up centrale Abbiamo visto come Può essere interessante Abbassare entrambe I volumi Per ottenere un suono simile acustico Ok E ritornando invece al pick up al ponte Abbiamo visto come alzando al massimo Io ho il mio suono rock Rock che va bene per esempio per fare gli ACDC Almeno se hai una chitarra come me con gli unbucker Ok Ma se è andato a abbassare il volume Ecco che diventa buono anche per Anche per arpeggiare Ok Poi non l'abbiamo sperimentato per esempio con il tono di questo pick up al manico Anche il tono Permette di tirare fuori sonorità ancora diverse Ok Poi chiaramente dovrai anche sperimentare con la tua chitarra Va bene Perché anche dentro a ogni chitarra ci sono poi possibilità e sonorità diverse Però Quelle che ti ho descritto diciamo che credo che si possano adattare abbastanza bene A tutte le tipologie di chitarra elettrica Quindi spero di averti dato una prima panoramica delle sonorità che si possono ottenere da una chitarra Soltanto lavorando con la scelta del pick up Il controllo del volume La gestione del tono E anche la gestione della pronuncia Ok Quindi suonare per esempio al ponte col plettro o suonare al manico Va bene Credo che questo aspetto per un chitarista elettrico sia davvero molto interessante Se questo tipo di video ti sarà piaciuto potremo anche tornare poi in futuro Su come ottenere le sonorità che ci interessano dalla nostra strumentazione Noi ci vediamo sicuramente settimana prossima Per un altro tipo di lezione Chissà quale Ciao buona chitarra e a presto Grazie a tutti Grazie a tutti